Ottava edizione del premio Valore Lavoro. Sì, anche quest'anno siamo riusciti a ridosso della giornata delle marche, giornata in cui si evoca la nostra identità, l'identità della nostra regione. Non poteva mancare anche quest'anno ovviamente un pensiero forte a quello che è il mondo del lavoro, che è il mondo più importante del nostro sviluppo, quello che ha segnato lo sviluppo delle marche. E lo facciamo attraverso questo premio che segnala le buone pratiche del nostro mondo del lavoro, cioè di un'impresa che si ovviamente dedita al reddito, al profitto, ma che ha attenzione anche a come si raggiunge questo obiettivo, a questo reddito. E questo avviene attraverso per esempio la collaborazione con le maestranze in un rapporto che in qualche modo avvia una nuova cultura, che per la verità è stata anche propria della nostra storia, ma che oggi più di ieri è necessario che avvenga attraverso una mediazione nuova nel lavoro che vede l'imprenditorialità insieme alle maestranze unite in un disegno comune. Sono cadute un po' le vecchie ideologie, le vecchie contrapposizioni, la vecchia contrattualità. Credo che questo sia un segno dei tempi che ci deve rendere più responsabili di fronte ai tanti problemi che abbiamo di fronte, che non sono solamente quelli della globalizzazione, quelle delle nuove tecnologie, quelle della grande competitività, ma che tengono anche a quelli che sono i rapporti umani all'interno del posto di lavoro. Si è fatto un gran dibattito anche sul Job Act ultimamente, si è ritornati a discutere di diritti e di responsabilità. Io credo che è sul campo che si misura un po' la capacità delle nuove generazioni a poter interpretare un nuovo rapporto nel mondo del lavoro. Le buone pratiche che noi premiamo questa sera sono un segno tangibile di questo che sto dicendo. È importante riuscire a convincerci che nella comune responsabilità sta il successo. Noi abbiamo fatto anche degli studi sulla responsabilità sociale di impresa e da questo punto di vista abbiamo potuto valutare come le imprese allorché adottano dei criteri di responsabilità e di saggezza nel rapporto tra chi lavora ottiene maggiori risultati. Sia perché c'è un'attenzione diversa a quelli che sono gli obiettivi, ma la condivisione oggi è fondamentale. Questo significa comunque una responsabilità a crescere tutti quanti insieme in maniera più decente, in maniera più forte per affrontare le nuove sfide. E io credo che il valore del lavoro possa rappresentare da questo punto di vista anche un segno di speranza. Nella giornata dove premiamo le 10 aziende responsabili, dove premiamo 5 aziende che curano da vicino la sicurezza sul lavoro, altro elemento fondamentale che contraddistingue anche le buone pratiche delle nostre imprese, diciamo che riparte un po' la speranza perché senza lavoro non ci sarà sviluppo e pertanto il lavoro per le marche rappresentano ancora uno dei baluardi fondamentali per il prossimo futuro, ma soprattutto pensando alle giovani generazioni. Grazie.